A grande richiesta ritorna su Fanno TV Anziano Sarai Tu, le lezioni di ginnastica che durante il lockdown hanno permesso a molti telespettatori di restare in forma e mantenere la linea. Un progetto portato avanti da ASI e dal Comitato di Urbino in collaborazione con Etica, che dal lunedì 26 ottobre sarà in onda tutti i giorni alle 10 e alle 16 per portare la ginnastica comodamente a casa. Dopo il successo ottenuto dalla prima stagione tra virgolette di Anziano Sarai Tu avete deciso di replicare? Visto proprio come hai detto tu il successo che ha avuto la prima stagione nata un po' con il lockdown di primavera, dovuta a questa emergenza sanitaria, abbiamo deciso di riproporlo soprattutto per gli utenti che ci hanno seguito fino a febbraio dello scorso anno ma che sono quei soggetti che in questo momento sono un po' più a rischio e quindi li portiamo a casa la ginnastica dolce. Chiaro è che queste lezioni poi non tratteranno soltanto della lezione di ginnastica dolce ma a turno verranno dati i consigli dai professionisti di etica, uno su tutti il nostro psicologo Samir Marcantonini, poi parteciperanno i vari medici dello sport, il nostro fisioterapista, il nostro osteopata e il nostro nutrizionista appunto ripeto per dare consigli utili a chi ci segue. Sarà fatta da casa, servirà materiale particolare per seguire le lezioni? No, la caratteristica di queste lezioni è appunto che anche i ragazzi, i nostri istruttori che insomma registreranno la lezione, daranno consigli anche, faranno esercitazioni con materiali che si possono trovare benissimo in casa e che tutti noi possiamo avere dentro casa. Invitiamo tutte le altre persone a recarsi nelle nostre palestre dove l'attività anche di ginnastica dolce viene fatta in totale sicurezza, quindi mantenendo la distanza di sicurezza con il triage iniziale dove appunto viene presa anche registrata la temperatura dove sicuramente troveremo una lezione molto più coinvolgente e anche duratura rispetto a quella che manderemo in onda.